parliamo ora di intermediazione immobiliare e metaverso con andrea garretta onboarding speciali di exp italia assolutamente sì grazie per l'invito ciao andrea allora exp un modello di agentia decentralizzata possiamo chiamarla così trasversale forse è meglio più che decentralizzata illustraci il modello exp come funziona il modello exp è un modello assolutamente innovativo per moltissimi aspetti il metaverso è uno forse dei più conosciuti partiamo dal presupposto che non siamo un franchising quindi noi siamo una comunità di agenti il nostro fulcro è sempre comunque l'agente immobiliare e in ragione di questo si declina tutta una serie di peculiarità dell'azienda quindi andarti a raccontare cos'è exp ti dico che exp è una comunità di agenti che tende a crescere in livello numerico a livello di fatturato e soprattutto cresce nel benessere nel senso che noi abbiamo strutturato un modello di business che è focalizzato sull'agente immobiliare abbiamo conosciuto in passato tutta una serie di realtà che hanno presentato come fulcro l'azienda il marchio noi mettiamo al centro di tutto l'agente quindi partendo da questo presupposto andare a raccontare exp e andare a raccontare la storia di 86 mila genti oltre 86 mila genti nel mondo che creano valore aggiunto per se stessi per le comunità in cui sono presenti e per tutto quello che da questa comunità può nascere nei confronti dei clienti nei confronti anche di investitori piuttosto che di tutte quelle che sono le istituzioni che comunque con l'ambito immobiliare hanno a che fare ecco hai citato più volte il termine comunità com'è che exp sprona sollecita e fa sviluppare questa comunità ma parte da un presupposto che exp non si pone come cappello exp si pone come acceleratore ma ci sono un po di colleghi e loro sicuramente mi hanno già definito definire exp come un'autostrada verso il successo nel senso che è una possibilità di andare a raggiungere degli obiettivi che fino a ieri potevano sembrarti irraggiungibili un po perché eri localizzato in una determinata area un po perché forse non avevi con te degli strumenti tecnologici che potessero aiutarti o supportarti nella crescita forse perché ti mancava un po di formazione perché oggettivamente tutti siamo preparati sempre su tutto sarebbe strano il contrario exp cerca di aiutarti in tutto questo aiutarti a fare rete con altre persone che hanno le tue stesse ideali che hanno la tua stessa volontà di crescere vedono il mondo in una prospettiva migliore al netto di questo exp torna a dire è un'autostrada è una grossa autostrada verso il futuro dell'immobiliare una grossa autostrada verso il raggiungimento di obiettivi sempre più sfidanti quali sono invece i modelli cioè qual è il modello di mediazione che voi ritenete diverso rispetto alla classica mediazione sai noi abbiamo un obiettivo quello di andare a modificare radicalmente quella che è l'industria del mercato degli immobili che come ti accennavo prima ha avuto sempre come cardine come punto di riferimento il brand il marchio qualcuno usa la spilletta qualcuno la cravatta noi usiamo le nostre facce usiamo le facce di nostri colleghi e la mia quella di tutte le persone che all'interno di exp sono presenti e si trovano a crescere con exp e attraverso exp quindi il nostro il nostro modello è quello di una crescita condivisa e quello di una crescita finalizzata a raggiungere obiettivi sempre più sfidanti e la crescita finalizzata ad avere a disposizione degli strumenti ogni giorno più performanti creiamo valore aggiunto dando ai nostri agenti dei ritorni provvigionali più alti della media anzi più alti in assoluto il nostro modello di business è finalizzato a dare il cento per cento del riscontro provvigionale alla gente non al marchio non alla cravatta o la spilletta che dir si voglia alla gente alla sua faccia la sua crescita e in ragione di questo mettiamo a disposizione di che cosa mettiamo che cosa a disposizione dei nostri agenti mettiamo a disposizione la migliore tecnologia presente sul mercato il metaverso non deve essere inteso come luogo di gioco luogo di marketing un luogo di incontro un luogo immersivo dove poter ampliare la propria rete di conoscenza personale e professionale finalizzando tutto a sviluppare il business e in ragione di questo non c'è un sistema che possa essere equiparato exp exp è l'immobiliare del domani quindi parlare di un modello a cui ci ispiriamo è un modello exp probabilmente nel tempo perché è un lavoro titanico per molti aspetti quello di andare a cambiare un mercato un'industria però per molti aspetti il modello domani sarà exp hai accennato al come ho fatto anche nella presentazione parlavamo di metaverso raccontaci un po il vostro metaverso cos'è il metaverso exp e cosa serve metaverso exp è una realtà quotidiana giornaliera dove mi incontro con i miei colleghi esattamente come se venissi nel tuo ufficio senza alcun tipo di limite o limitazione né temporale né di luogo che mi permette di conoscere una pluralità infinita di persone di stringere rapporti lo accennavo prima personali io ho avuto il piacere di incontrare persone che avevo sempre conosciuto solo nel metaverso ma è così tanto immersivo che quando ci siamo incontrati era come se ci fossimo conosciuti da sempre perché non è un gioco o una idea nascosta dietro un pupazzetto virtuale è la tua quotidianità io all'interno di exp nel mio ufficio mi arrabbio ho momenti di sconforto ho momenti di allegria ogni tanto organizzo degli scherzi come giusto che sia come secondo me deve fare un onboarding perché l'onboarding deve tenere un po sulla squadra perché sennò poi diventa troppo serioso e in ragione di questo bisogna pensare al metaverso di exp come un luogo di incontro oriero di possibilità di sviluppi personali ma soprattutto professionali ma non solamente con quelli che sono gli agenti locali il mio diciamo vicino distanza il mio vicino distanza può essere una ragazza colombiana che vive in canada può essere il mio onboarding specialist che vive a milano può essere il mio broker record che vive in sardegna piuttosto che un collega che vive in australia con cui ho un'immediata possibilità di dialogo e di relazione questo è il metaverso chiaro bisogna fare attenzione al fuso orario perché l'unico limite è il fuso orario perché ogni tanto rimani lì e poi pensi ma loro stanno dormendo giustamente se il pupattetto non si muove e sta dormendo perché giustamente in altre parti del mondo è notte parliamo invece del mondo fisico qual è l'identikit dell'agente immobiliare tipo xp l'agente immobiliare tipo xp non esiste nel senso che come dicevo prima noi non siamo un franchising né settoriale e tanto meno localizzato siamo un'intermediazione globale nel senso nasciamo negli stati uniti attualmente ci stiamo sviluppando nei prossimi giorni intorno all'otto riusciremo ad aprire un altro dei paesi importanti nel mondo dell'immobiliare si parla di dubai quindi non esiste un agente immobiliare tipo non facciamo residenziale punto non facciamo commerciale punto non facciamo lusso punto nell'interno all'interno della nostra comunità ci sono vari anime che coesistono tranquillamente perché sono foriere di sviluppo l'una dell'altra e in più se mi permetti xp attira tutta una serie di altre persone che sono sempre evidentemente agenti immobiliari ma la cui modalità di avvicinamento non è legata a quello che faccio quindi residenziale commerciale lusso o altri aspetti legati al nostro mondo ma in base alle necessità quando approcci xp capisci che ci sono come delle colonne no che tengono sulla struttura abbiamo parlato del dell'agente immobiliare come come cardine come fulcro di tutto il sistema tutto questo sistema ruota intorno però appunto delle colonne che sorreggono in questi principi uno di questi è la formazione quindi dei colleghi che magari sono arrivati nel loro percorso professionale a capire che magari necessitano di ulteriore formazione o vogliono implementare una buonissima formazione che alcuni hanno tanto di cappello xp è in grado di erogare questo servizio formativo al loro beneficio abbiamo all'interno di xp una university da xp university che eroga una proposta formativa in tre in tre sezioni in tre blocchi una assolutamente formativa la prima è proprio come muoversi nel mondo xp peraltro proprio per avere dimestichezza con gli avatar la seconda è un momento diciamo formativo per capire quali sono gli strumenti che ti possono servire per incrementare la tua professionalità e perché no anche il tuo business e la terza addirittura è focalizzata su un aspetto particolare che è quella del personal branding e adesso magari se mi dai modo ti ti racconto e ti esplicito brevemente e anche oltre al personal branding la possibilità di analizzare i miei investimenti finalizzando il tutto a una crescita costante e continua dei dei miei risultati economici ti accennavo il personal branding perché i xp proprio perché è finalizzata a far crescere la comunità non ha un branding che fagocita le il branding della brandizzazione personale il mio marchio ma anzi noi lavoriamo costantemente con con noi stessi in prima battuta ma anche con tutti i nostri colleghi della rete per creare il nostro proprio marchio il nostro proprio brand perché crescendo la figura dell'agente immobiliare che fa parte di xp per osmosi benigna diciamo così cresce anche xp la comunità non può esimersi da crescere a prescindere delle persone che ne fanno parte quindi se un brand all'interno della nostra comunità di un collega di una collega cresce evidentemente cresciamo anche noi il senso di comunità e quindi e cooperazione all'interno diciamo cooperazione digitale all'interno del metaverso i xp quali sono diciamo che il mercato immobiliare italiano dell'intermediazione ha provato più volte a creare delle community delle cooperazioni delle sinergie che difficilmente prendono piede quali sono le difficoltà che xp ha ritrovato nel prendere piedi in italia ma la difficoltà attiene a un po un nostro substrato culturale nel senso che siamo sempre portati a tenere la la cosa buona nel cassetto poco consci del fatto che una banale legge matematica dice che il cento per cento di zero è sempre zero ai nostri colleghi agenti immobiliari molto spesso questo concetto non è così chiaro nel senso che preferiscono magari vivere da sola in primissima battuta in primissima persona questa questa crescita economica che poi non si realizza vivono un po nella speranza xp è fatta di persone che hanno capito che questa situazione è fuoriera di scarsissimi risultati quindi la crescita di xp dovrà per forza passare attraverso una crescita di tipo culturale io ho esordito dicendo che abbiamo una uno scopo una missione una una vision a lunghissimo termine o io mi auguro a termini di tempo più brevi che è quella di cambiare il concetto di industria del mercato degli immobili e questo non può avvenire se non cambiando la cultura delle persone che lavorano quotidianamente all'interno di questo di questo mercato quindi con un discorso di consapevolezza che andando a mettere a disposizione quelle che possono essere delle informazioni quelle che possono essere degli incarichi con altri colleghi che però devono avere la tua stessa base culturale concedimi questa espressione il rischio vero è di vendere di più e vendere meglio e fare anche un servizio migliore a quelle persone che mi hanno incaricato di occuparvi di un problema immobiliare noi non dobbiamo dimenticare che la gente la gente che si occupa di immobiliare la gente immobiliare entra nella vita delle persone quando ci sono delle momenti di cambiamento possiamo definire anche di criticità e quindi non rispondere a queste criticità vuol dire non adempiere a quello che è lo scopo del mio lavoro e tu hai fatto spesso leva sul senso di comunità dicevi che xp comunque nasce negli stati uniti oggi in quanti paesi è presente xp e questa sinergia porta degli scambi anche con l'estero per l'immobiliare italiano allora partendo da dalla tua primissima domanda adesso l'8 di dicembre apriamo il ventiquattresimo paese dubai ed è un per noi un grande successo perché a parte le difficoltà amministrative politiche che ci sono ad aprire in un contesto di questo genere vuol dire ad aprirsi a un mercato assolutamente importante e xp nasce negli stati uniti xp è presente nel continente nord americano e in buona parte della cala quindi della parte sud sud dell'america quindi in in brasile in messico in colombia adesso chiedo venia per tutti quei paesi che non riuscirò perché non mi ricordo e sarebbe sarebbe triste non non fare questa premessa di chiedere scusa è presente in europa evidentemente in italia in francia in spagna stiamo prende in polonia abbiamo aperto in germania abbiamo perso da pochissimo in grecia altro importantissimo mercato per il turismo viene da sé in portogallo in inghilterra che funziona veramente molto bene siamo presenti in sudafrica siamo presenti in australia quindi quando ti parlo di una trasversalità globale mi riferisco proprio questo la possibilità di avere un interlocutore che un collega che ha la mia stessa cultura la mia stessa formazione con cui io posso andare a profilare magari una necessità ti faccio un esempio che è avvenuto ormai quasi un annetto fa anzi un pochino di più eravamo proprio agli inizi dell'avventura exp in italia una nostra collega è stata sollecitata da una collega canadese dicendo guarda che domani arriverà in italia questa persona facendo nome e cognome dando riferimento telefonico è un mio cliente quindi il famoso mettere nel cassetto da noi non esiste sta cercando in questa determinataria un immobile sono andati con questa collega a vedere l'immobile a vedere la zona probabilmente non era quello che cercava con la collega la nostra collega italiana ha trovato in un'altra zona un immobile che gli andava perfettamente bene non era quello che si aspettava non era quello che cercava ma lo sai nel mondo dell'immobiliare fra il dire e il fare molto spesso c'è il capire che cosa voglio fare però abbiamo chiuso abbiamo chiuso una delle nostre primissime operazioni con una bellissima attività di collaborazione segnalazione bene bene andrea quindi exp è un incubatore dove potete trovare collaborazioni internazionali fate sempre attenzione ai fusi orari assolutamente si bisogna imparare bene i fusi orari è un modello insomma innovativo di fare intermedizioni immobiliari grazie andrea del tuo contributo grazie a voi e proseguiamo con l'evento grazie a voi